Questa è la faccia di un tifoso che non ha dormito. A volte mi viene chiesto di fare un commento. Oggi mi scoccia tantissimo a farlo. Mi pesa qui. Che dire. Schifo. Abbiamo fatto schifo. Abbiamo fatto schifo su tutti i fronti. Come carattere, come determinazione, come assetto, come gioco, come tutto, come mente, specialmente. A parte i rigoli di Mariani, che secondo me è un arbitro che non potrebbe neanche andare nelle categorie dilettantistiche, abbiamo fatto schifo. Iulici ha detto il peggior toro da quando era a Torino. Molti amici miei ieri che guardavano una partita. Hanno detto che sono andato, hanno girato, sono andato in altri canali a guardare il volley, a guardare il Berggemon, a vedere il rafting. Perché lo spettacolo è stato indecoroso. Io ho delle sensazioni bruttissime quest'anno. La squadra non c'è. Non c'è, non c'è gioco, non c'è niente. Non abbiamo le punte. Il centrocampo è leggero. Iulici è stato un fantasma ieri. Se manca Iulici non abbiamo nient'altro che c'è Linetti. Tamezza è non pervenuto. Ricci fa quel che può. Davanti proprio siamo evanescenti al massimo. Evanescenti come la società. Abbiamo sette giorni di tempo ancora per fare il calcio a mercato. Questo benedetto calcio a mercato. Quasi otto giorni. Finiamo lunedì. Siamo messi male. Iulici l'ho visto sconsolato. A parte che Iulici, che secondo me continua ad avere delle colpe sue. Vabbè, ma questa è un'altra paia di maniche. La squadra è messa male. La squadra proprio non mi piace. Ed è soltanto la seconda partita del campionato. Però la cosa che mi fa più tristezza è che non c'è l'ardore del toro, l'essertoro in campo. Puoi perdere anche con la squadra più forte, ma almeno dimostra di avere le palle, il carattere. Niente. Siamo penosissimi da quel punto di vista. La degradatizzazione che qualcuno di Masio ha fatto da 18 anni a questa parte si sta vedendo in campo. Questo non è più il toro. Mi spiace, ragazzi. Lancio un appello a tutti i veri tifosi del toro. Io lo amo. Ragazzi, pensate, proprio lo amo. Ma questo non è più il mio toro. Ma è da troppo tempo. E mi demoralizza. Mi fa star male. Mi fa soffrire. Dura oggi, eh. Oggi veramente dura. Ragazzi, vi auguro una buona domenica. Dalla pancia del tifoso, dagli amici di Senza Giacca, la Davide. Io auguro comunque una bella domenica. Poi per il resto, vediamo un attimo cosa ci aspetta, ma le previsioni non sono delle migliori.